Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato in un toccante video su Instagram le sue sfide con la salute, rivelando una diagnosi di disfunzione tiroidea. Le analisi non sono ancora perfette, e Claudia si apre sulle difficoltà fisiche e psicologiche affrontate a causa della sua condizione. Parla della sua lotta con la depressione, la stanchezza cronica, e come la sua vita sia cambiata dopo il parto. Claudia condivide il suo percorso e annuncia una nuova visita specialistica per cercare una soluzione. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.